Federica, il ministro Toninelli ha Reggio Calabria, quindi attenzione massima per la mobilità, tanti sono i problemi? L'ho detto in campagna elettorale subito dopo la mia elezione che ci sarebbe stata la massima attenzione da parte mia e quindi nel governo a una realtà come quella calabrese, in particolare Regina, che per tanti anni è stata più trattata e abbandonata. Quindi questi sono i primi passi ovviamente, non possiamo pensare che intermessi possano risolvere tutti i problemi, però siamo sulla buona stessa, almeno c'è l'attenzione di capire da vicino quelli che sono i problemi con cui ci confrontiamo. Va bene, grazie. Grazie.